Oggi sono usciti dei nuovi Googles e andiamoli a vedere insieme. Sono degli occhiali per la guida in FPV utilizzabili con sistema O3, camerina e trasmissione dati digitali da montare sopra a droni autocostruiti, ma sono compatibili anche con il DJI Avatar o Avata, a seconda di come preferite. Questi sono sostanzialmente gli stessi Google 2, però rivisti in chiave un po' più economica. Vi dico subito che la differenza di prezzo non è enorme. Parliamo di circa 200€, ci sono offerte però adesso che siamo nella fase di lancio iniziale che li rendono veramente appetibili. Andiamoli insieme a vedere, video non preparato, sono tornato adesso dal lavoro, però li scopriamo insieme e vediamo un po' di cosa si tratta. Sono già entrato nel sito DJI in questo momento e cosa mi compare? Beh, all'inizio abbiamo il Mavic 3 Classic, ma poi scorrendo vediamo il Mini 3 e qui accanto i DJI Googles Integra. Hanno voluto dargli questo nome Integra, non so per quale motivo avrebbero potuto chiamarli DJI Google 2 Lite o qualcosa tipo SE, però hanno preferito dare questo nome Integra a questi occhiali. Bene, già si nota che c'è qualche differenza rispetto ai Google 2, nella versione 2, cioè vedo qua dietro, cioè nella parte qua dietro alla testa, che hanno un supporto. Questo supporto è in gomma fiuma e integra la batteria, che nei precedenti occhiali era esterna, con un cavo dovevamo poi andare a collegare una lipo. Invece in questo modo abbiamo tutto un sistema integrato. Bene, andiamo lì a vedere più da vicino, però. Da qui possiamo anche procedere all'acquisto proprio tramite il sito. Esteticamente hanno le stesse antenne, la forma è la stessa, non so se anche il peso sarà lo stesso, però andiamo a vederne un po' meglio le caratteristiche. Qua sotto ci dice che questo sistema è leggero ed è portabile. Vediamo se riesco a tradurre anche la pagina, molto meglio. Quindi, sistema leggero e portatile. Progettazione integrata. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno già integrata la batteria. La batteria retrostante. Questa cosa non mi fa impazzire. Non adoro l'elastico con la fascia superiore. L'ho provato anche con i miei occhiali, però non mi fa impazzire. Di contro, magari questo sistema con la batteria qua dietro la nuca può andare a bilanciare il peso complessivamente. Non lo so, ditemi voi se vi piace. A me sinceramente non fa impazzire. Schermi micro OLED. Quindi la stessa tecnologia che abbiamo adesso sui Google 2 OLED. Fantastici. Non so se la dimensione delle lenti è la stessa. Vediamo di scoprirlo insieme se forniscono questo tipo di specifica. Trasmissione video DJI O3+. Si parla di O3+. Vediamo un po' che qua compare una nota. C'è una letterina 1. Vediamo se riusciamo a trovarlo qua in fondo. Cosa vuol dire questo più? Ecco, qua in fondo ci spiega la notazione 1 per cosa sta. DJI Google integra un supporto alla trasmissione video DJI O3+. Con DJI Avata o DJI O3 Air Unit. Quindi hanno voluto distinguere O3 Air Unit e DJI Avata. Saranno retrocompatibili a tutti i sistemi di HADX Vista Air Unit precedenti? No, non lo so. Non lo so. Se voi lo sapete scrivetemelo qua sotto in un commento così almeno dopo lo so anch'io. Ritorniamo alle specifiche. HD a bassa latenza. Quindi anche la risoluzione è rimasta invariata. Vediamo cosa ci dicono. Immergiti nel cielo con DJI Google integra. E ampli la tua esperienza con DJI Avata e DJI RC Motion 2. Sì, è uscito anche il Motion Control 2. Che sembra andare a migliorare un po' le performance della Closh. Quella che è attualmente in vendita. Io non sono un amante della Closh. Mi piace pilotare in modalità acro con il radiocomando. Ho provato la Closh e devo dire è veramente figa. Questa sembra che sblocchi alcune funzioni di volo per renderlo ancora più coinvolgente e avere maggior controllo. Infatti ci dice per un controllo acuto e un volo immersivo in prima persona. Molto bene. Vediamo un po'. Combinato per comodità. I leggeri DJI Google integra adottano un design integrato che combina l'archetto e la batteria in uno. Eliminando fastidiosi cavi e consentendoti di indossare e togliere facilmente gli occhiali. L'archetto con batteria integra è leggero, bilanciato e comodo da indossare. I DJI Google integra possono essere utilizzati durante la ricarica e rimarranno alimentati durante diversi voli con droni a batteria piena. Quindi puoi continuare a volare tutto il giorno. Cioè posso andare a inserire un power bank, lui si ricarica e mi consente di volare in continuo. La batteria ha una durata di circa due ore. È scritto qua sotto. L'antenna, come dicevo, è pieghevole. È la stessa antena. So che esistono già in commercio dei supporti per andare a mettere delle antenne un po' più performanti. Il peso 410 grammi, che se non mi sbaglio è un po' più peso rispetto al Google 2. Lo schermo è rimasto invariato, ragazzi. Si parla di questi micro OLED. È 1080p. Qua fanno vedere che, appunto, è presente un filtro per la luce blu. Vedete questo colore blu che esce fuori da queste lenti, che peraltro però è già previsto nelle lenti dei Google 2. Questo ci consente di avere un maggior comfort durante il volo e un riposo anche nelle sessioni di volo un po' più lunghe. I formati codec supportati sono H.264 e H.265. Non è cambiato niente, neanche la frequenza di aggiornamento a 100 Hz. E, ragazzi, una cosa però che è cambiata, che però non mi piace assolutamente, questa cosa, che non hanno più la regolazione delle diottrie qua sotto. Vedete, qua è possibile soltanto andare a regolare la distanza delle lenti. E non possiamo più andare a interagire con il fuoco. Io che ho gli occhiali e ho provato i Google 2, ne sono rimasto veramente colpito. Vi lascio qua sopra una scheda di quando l'ho provati. E mi sono piaciuti tanto. Questi non hanno queste funzioni di regolazione focale. Quindi che ha problemi come me, io sono ipermetrope, non possono essere utilizzati senza occhiali. Siamo sicuri? No, in realtà qualcosa DJI ha previsto. Adesso vi spiego. Hanno trovato un sistema più economico per abbassare un po' i costi, che consiste sostanzialmente nella fornitura di alcune piccole lenti da applicare su questi occhiali. Non coprono le necessità di tutti i piloti, anche perché i problemi di vista possono essere molteplici, però vengono fornite un kit base di lenti. Poi se questo non ci basta, dobbiamo andare al nostro oculista professionista e farceli fare su misura apposta per noi. Vi piace questo sistema? A me sinceramente no. Io preferivo la regolazione focale, come ho anche attualmente sui miei occhiali analogici, che di fatto ancora non ho sostituito al digitale. Certificazione TUV, bene, questo riguarda sempre la qualità appunto delle lenti, che hanno questa protezione con un filtro e le rende più confortevoli. E vediamo inoltre cosa ci dicono. Trasmissione video a bassissima latenza fluida e stabile. DJI Google's Integra è dotato a trasmissione video DJI O3+, con una latenza di soli 30 millisecondi. Gli occhiali passano automaticamente tra le bande di frequenza 2,4 GHz e 5,8 GHz per mantenere un segnale stabile per un'esperienza di visione HD fluida, coinvolgente e con interferenze minime. Avete visto che sostanzialmente questo è il valore standard, però naturalmente poi se andiamo dietro a un muro, a volare dietro a un muro di cemento armato, la qualità in qualche modo peggiora. E DJI ha un sistema di gestione del focus mod veramente avanti. Rispetto a altri visori digitali che ho provato, DJI è un pelino un po' sopra rispetto per esempio al sistema Caddix. Ne giustifica il prezzo? Non lo so, ditemelo voi. La nuova tecnologia Sync Smooth produce una trasmissione video fluida e fluida per la fotografia area ad alta velocità. Beh ragazzi, con questi occhiali, con questo sistema O3 praticamente è superfluo montare sopra una camera tipo GoPro. Almeno che non montiamo proprio una GoPro di ultima generazione, la qualità è quasi paragonabile. Almeno che non dobbiamo andare a fare un lavoro professionale. È chiaro, GoPro è sempre superiore perché avrà molti più frame di registrazione, una risoluzione superiore ai 1080p, però comunque va a portare un peso notevole. Invece, se non abbiamo, diciamo, grosse pretesse, dobbiamo magari condividere la nostra sessione di volo sui social, questo sistema va più che bene per essere condiviso così com'è. Il resto lo possiamo saltare, niente di nuovo. Andiamo a vedere il prezzo, 6,69 e possiamo procedere all'acquisto da qui, ma questo occhiale è presente anche su Amazon. Beh ragazzi, con questo video è tutto, un breve aggiornamento sull'uscita di questi nuovi visori integra. Adesso tocca a voi, fatemi sapere cosa ne pensate e se ancora non siete iscritti e volete rimanere aggiornati su questi ed altri argomenti, iscrivetevi al canale. Lasciatemi un like e un commento, in questo modo mi supporterete. Io vi ringrazio dell'attenzione e ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie! Grazie.